Alla fine ho chiuso le mie posizioni di breve termine su Bitcoin, ragazzi. Salve a tutti, Marco Casario qui e vi avevo già detto che era suonato un campanello di allarme su Bitcoin quando avevamo visto quella grossa candela rosso che si era andata a rimangiare tutto quanto il percorso che aveva fatto quando aveva sfiorato i 14.000 dollari Bitcoin. Vi avevo detto che avrei in maniera conservativa tenuto i miei guadagni, quindi avrei protetto i miei guadagni e così è stato, ragazzi. Come al solito il trading è fatto di regole. Ripeto, questo è il mio portafoglio di breve termine, non è quello di lungo termine, quindi non cominciate a scrivere, Marco mi avresti dovuto credere in Bitcoin, Bitcoin salirà e andrà avanti. Lo so, per questo è un portafoglio di lungo termine che non tocco, sta lì e me lo terrò tutta la vita con anche il rischio di poterlo perdere. Ho avuto la fortuna di acquistare Bitcoin a prezzi molto, molto, molto vantaggiosi. Chi ha fatto il corso con me di criptovalute lo sa e quindi quelli me li terrò. Invece è diverso i ragionamenti che faccio su questi portafogli investimenti, chiamiamolo far trading quasi, ma non dei trading. È diverso l'approccio che le tecniche che utilizzo. Di queste ne ho anche parlato nel webinar tempo fa. Insomma ragazzi, andiamo a vedere per quale motivo ho chiuso e soprattutto quando è che penso di rientrare, perché rientrare è una delle cose che voglio sicuramente fare, perché credo che non sia ancora, ritengo che non sia ancora finita questa ondata rialzista per Bitcoin. Un like se questo video vi è piaciuto e vi può essere stato utile. Noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao! Ed eccolo qui ragazzi il grafico di Bitcoin ed ecco la linea rossa che ha decretato la mia uscita. Vi ricordate ne avevo parlato, dove era posizionata questa linea ragazzi? Questa linea era posizionata inizialmente sul mio stop loss che era un take profit in realtà, ma quando il prezzo scende rispetto al prezzo attuale sempre di stop loss si parla, anche se lo stop loss è in profitto. L'avevo messo sui 10.000 dollari, vi avevo già spiegato qualche giorno fa perché l'avevo messo su quella soglia, soglia psicologica, ma ci catevano anche degli indicatori che utilizzo per varie strategie, non sul mercato di Bitcoin ma che mi tornano utili anche sul mercato di Bitcoin. Fatto sta che, che cosa era successo? Il prezzo era tornato a salire, però c'era qualcosa che non mi inconvinceva proprio in questa salita qui, guardando anche i volumi, guardate, vedete come i volumi erano bassi nonostante questa salita, quindi non c'era grande entusiasmo da parte di chi voleva insomma aprire posizioni in buy, fatto sta che il prezzo ha rotto questa struttura critica importante, l'ha rotta un pochino, ma poi è rientrato subito, vedete l'ha rotta con due candele, prima candela di rottura, seconda candela doji di indecisione, poi grande candela rossa che rispedisce il prezzo all'interno della soglia più bassa di questo canale, che per me era un canale di attenzione, poi lateralizzazione ed ecco qui il prezzo poi scendere, fatto sta che io avevo messo, quando vi avevo scritto, i ragazzi li avevo scritto su Instagram, avevo fatto due post, il primo questo di qualche giorno fa, e poi quello di questa mattina in cui ho scritto quando sono esattamente uscito da Bitcoin, avevo fatto invece quest'altro video in cui gli avevo detto, in tempi diciamo meno sospetti, che stavamo a 12.000, qui sui 12.000 dollari, avevo messo time frame orario, e avevo detto sto stringendo, sto proteggendo i miei profitti, perché questo deve fare un trader, quindi ero andato su H1, quindi time frame orario, ed ero andato a, torniamo un po' indietro, eravamo qui, in questa fase qui, esattamente quando avevo fatto il post, ed ero andato a mettere lo stop loss sotto questa candela, quindi mi ero mantenuto sotto la struttura a 11.500 dollari, e come minimo ho usato questa candela qua, sono stato molto, diciamo, conservativo, ma perché volevo proteggere il mio prezzo, e sono stato toccato fuori a 11.280, qui, da questa candela qua, il 30 giugno alle 15. Quindi ragazzi, per ricapitolare, torniamo su time frame giornaliero, così andiamo a rivedere quello che ho fatto, e quello poi soprattutto che vorrò fare ancora, perché non è finita qui, sono uscito, ma la mia intenzione è di rientrare, e non appena troverò il segnale giusto per rientrare. Quindi ero entrato qui a 7.000, su questa candela ribassista, e poi quella che si è rialzata, ero entrato intorno ai 7.500 dollari, dovrei andare a rivedere adesso, ne ho parlato nel webinar che ho fatto ragazzi, in diretta l'altro giorno, fatto sta che ho fatto, qui segna il 48, ma in realtà vi dico, ho fatto un pizzico in meno, ho fatto il 47% circa, 47% di profitto. Con quanto io sono entrato ragazzi? A questa operazione sono entrato, in maniera piuttosto aggressiva, e sono entrato con 3 bitcoin. Quindi se volete capire la mia performance, o meglio, sono entrato con l'equivalente al momento di qualcosa che andava poco sotto i 3 bitcoin, lo posso anche dire, sono entrato con circa un equivalente di 20k in euro, quindi qui sono entrato e qui sono uscito. Questa era la mia operazione di breve termine, come vi ho detto anche perché non sono entrato prima, quali motivazioni non mi hanno portato a entrare a questo breakout qui sui 4100 dollari, il prezzo è andato troppo veloce fondamentalmente, e adesso, adesso ragazzi sto ad aspettare, adesso sto ad aspettare perché, uno, bisogna capire, devo capire se l'entusiasmo si è fermato, cioè se questo è stato l'ultimo impulso rialzista di bitcoin, fatemelo fare in blu e fatemelo fare non tratteggiato, è stato l'ultimo, diciamo, impulso rialzista prima adesso di un ritracciamento, dove potrebbe arrivare il ritracciamento? Ma ve l'ho fatto vedere più volte, il primo ritracciamento ce l'abbiamo qui sui 10.000 dollari, soglia psicologica, poi c'è quest'altra struttura a 9.500, poi ancora quest'area qua a 8.800, tra gli 8.800 e i 9.000, poi qui sotto tra gli 8.200 e i 7.700, poi ancora qui sotto, insomma, ha parecchi, per ritracciare ha parecchi, parecchi momenti bitcoin, andiamo a vedere anche Fibonacci, guardate, vi traccio il Fibonacci dall'impulso che c'è stato qua rialzista, per farvi vedere che il livello 38.2 cade praticamente sui 10.000 dollari, il livello 61.8 cade qua a 7.700, ok? Sono tutte aree che già ho segnato e già mi sono segnalato, il che non vuol dire che il prezzo potrà andare così in basso, per il mio ingresso, in realtà adesso mi metterò sul 4 ore e aspetterò il mio segnale, ragazzi non farò il video in cui vi dirò qual è il mio segnale, perché questi non sono consigli finanziari, nessuno deve fare nessuna operazione, nessuno deve chiudere nessuna operazione o aprire nessuna operazione, perché vede questi video, sto facendo didattica informazione, vi sto dicendo, sto condividendo con voi a voce alta quello che faccio, ma nessuno deve copiarmi, ognuno deve sapere e avere le proprie regole d'entrata e di uscita, ok? Non esiste una regola aurea per cui Marco ha fatto bene o ha fatto male a entrare a 7.300, 7.400, ha fatto bene o ha fatto male a uscire a 11.200, no! Esistono le vostre regole, esiste il vostro trading plan, quindi adesso aspetterò, nel caso in cui questo sia un ritracciamento, aspetterò il prossimo movimento del mercato e valuterò un'entrata, e guarderò tante cose ragazzi, guarderò i volumi, guarderò le candele, quindi candlestick pattern, guarderò che cosa sta succedendo dal punto di vista fondamentale, guarderò tanti aspetti, e poi dal punto di vista tecnico, quindi non credete che ci sia la bacchetta magica che mi dirà, ah, oggi devi entrare, no, ci sarà una serie di cose, del resto, se avevo la bacchetta magica, ero entrato qui, al minimo, Ero entrato, no, non è questo il minimo, fatemi tornare sul giornaliero, se avevo la bacchetta magica, e come molti sul canale vogliono farvi credere, dicendo, ah, io sono entrato al minimo storico qui, sono entrato a 3.300, il 2 febbraio del 2019, sapevo che questo era il minimo, sono entrato e mi son fatto tutta la cavalcata, bravo, complimenti, vai avanti così, diventerai ricco tra pochissimi giorni, ragazzi, nessuno sa, su un mercato poi ancora così volatile come quello di Bitcoin, nessuno sa qual è il minimo, e nessuno sa qual è il massimo, avrei voluto chiudere a 14.000 qui sopra, ma non avevo banalmente, stavo facendo trailing stop, stavo correndo in, sul trend, e magari avessi chiuso qua, avrei potuto, vi dico la verità, essere ancora più conservativo, e chiudere su questo breakout qui, intorno agli 11.800, invece che sugli 11.300, sì, avrei potuto guadagnare altro, quell'altra piccola percentuale, ma ripeto, ho delle regole, tra l'altro stavo pure in vacanza, non potevo stare tutte le ore davanti al grafico, fatto sta che Bitcoin mi ha, questo guadagno ragazzi, questo 47% mi ha praticamente quasi pagato, l'intera vacanza qui a Dubai e Seychelles, per le prossime settimane, quindi con questo guadagno, mi ricopro completamente il costo, quasi completamente il costo di questa vacanza, per due persone, per me e per la mia ragazza, quindi comunque sono contento, e sono comunque pronto alla prossima entrata. Ragazzi, un commento per dirmi invece voi, se state ancora dentro, se state ancora sperando che possa risalire, o state aspettando, siete in short magari, lasciatemi qui un commento, non è per me, ma è soprattutto per dare anche un altro punto di vista, utile, che potrebbe essere un punto di vista diverso dal mio, sicuramente, alle altre persone, agli utenti, alle persone che guardano questo canale, seguono questo canale, la condivisione che ci fa crescere tutti insieme, ripeto, io non ho la veggenza, non prevedo il futuro, quindi nessuno sa dire che cosa succederà, uso solo degli strumenti, uso le mie strategie, uso il mio trading plan, è l'unico modo per guidarmi, ok, è l'unico modo per tracciare una strada che sia oggettiva e non soggettiva, perché quando basate tutte le vostre scelte su voi stessi e sulla vostra soggettività, vuol dire che siete anche in balia delle vostre emozioni, emozioni che invece devono stare fuori dal mercato. ragazzi per oggi è tutto, un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao! al prossimo episodio Grazie a tutti Grazie a tutti